Con una semplice cerimonia l'amministrazione comunale di Castrovillari ha inaugurato la nuova sede della biblioteca comunale Umberto Caldora, locata all'interno del protoconvento francescano. L'abbiamo locata qui perché penso che sia il contesto ideale, un polo culturale all'interno del protoconvento fa bene agli occhi, alla mente, fa bene a tutto quello che può essere lo stimolo a gustare le tante opportunità culturali che abbiamo. Perché mettere qui gli uffici comunali e la biblioteca significa rendere fruibile tutti i giorni, cosa che non è stata fino ad adesso, anche la Pinacoteca, il museo che pochi castrovillanesi ho scoperto conoscono. La sala delle armi è davvero, l'ho vista ieri perché era allarmata, è chiusa, non davvero un forziere trattandosi di armi, è davvero molto bella da vedere. Ecco perché dico, aver ripreso a far funzionare questo protoconvento con gli uffici comunali e aver lasciato quelle che potevano essere delle spese eccessive che il Comune non è più in grado di sostenere, portano il sottoscritto ad essere davvero soddisfatto. Nel caso specifico della biblioteca, nuove possibilità di fruizione ai cittadini non solo per quanto riguarda la consultazione, l'approfondimento, lo studio e la lettura di libri e giornali, ma soprattutto per la sua sistemazione organizzata in modo tale da aprire spazi interessanti per le conferenze, le presentazioni di testi o altro. A mio modo di vedere questi spazi sono molto più ampi e molto più accoglienti rispetto all'ultima collocazione di Palazzo Cappelli perché sono due spazi ampi con le sale che possono essere utilizzate anche per eventuali convegni. All'interno del protoconvento francescano sono anche fruibili da tempo il museo archeologico, la pinacoteca Alfano e la sala delle armi con testimonianze, reperti e tracce che arricchiscono l'offerta culturale complessiva della città e del territorio.